Salve a tutti, buongiorno e oh mio dio, è Cyber Monday, vediamo le offerte. Il video è molto veloce, infatti me ne sono stagnate e ora ve le dirò in base a quello che ho visto fino ad ora su Amazon. La prima è un SSD Crucial, SSD da 525GB a 93€, il 33% di sconto. Questa è un'offerta giornaliera, quindi la troverete tutto quanto il giorno. Veramente molto interessante se vogliamo migliorare le prestazioni del nostro computer. La seconda offerta invece è per le nostre macchine fotografiche. La seconda offerta è una Lexar Professional, card da 128GB, ha la velocità di 150MB al secondo di trasferimento. Anche questo è uno sconto molto molto interessante, superiore al 50%. Ora per tutti quelli che invece vogliono girare dei video, cambiare la testa del proprio cavalletto, vi segnalo anche la testa Manfrotto, la Manfrotto MVH502AH, al 30% di sconto, niente male, con sconto direi. E adesso passiamo a qualche macchina fotografica. La prima che vi segnalo è una Nikon D5500 con un kit con il 18-140VR, quindi stabilizzato, a 874€, quindi con il 20% di sconto. Si poteva fare di meglio. Quindi passiamo a un paio di action cam. La prima è la Xiaomi, la vecchia, la prima serie, a 69€, prezzo molto basso. Mentre la seconda invece è la i4K. Questa viene venduta assieme all'asta per i selfie con il telecomando connesso via blu tutta la macchina, con il 27% di sconto. Anche questa niente male come sconto. E adesso però arriviamo a quella che, diciamo, è lo sconto di oggi, secondo l'ottica delle macchine fotografiche. Infatti parliamo della Sony A6000L con obiettivo 16-50. Macchina fotografica veramente molto buona per questo prezzo. Infatti si parla di 550€ circa, col 40% di sconto. Veramente un ottimo sconto per questo. In prima voglio segnalare anche due microfoni. Il primo è il Rode Videomic Rypot, a soli 77€. Mentre il secondo è il Videomic Go, a 55€. Anche esso scontato del 35% come Rypot. Quindi questi sono gli sconti stamattina. Vi lascerò tutti i link qui sotto in descrizione. Se utilizzate i miei link, non pagate ovviamente di più, ma date una mano anche a me. Mi raccomando, lasciatemi un like se il video vi è stato utile o vi è piaciuto. Lasciatemi anche un commento. Adesso, come voi, penso andrò a fare qualche acquisto. Arrivederci.